35.000 euro per 400 famiglie in difficoltà. Il comune di Pescara erogherà nei prossimi giorni e prima di Natale i buoni spendibili nei centri commerciali. Si può rinunciare a qualche luce, a qualche vento e così il primo cittadino Carlo Masci ribadisce la sua politica solidale. Altri 70.000 euro serviranno ad ospitare senza tetto negli alberghi al caldo riparati. Soddisfatto il capogruppo dell'Udc che lo scorso 7 dicembre ha inviato una lettera al presidente della commissione delle politiche sociali Maria Luigia Montopolino per chiedere una convocazione urgente con all'ordine del giorno l'attivazione dei buoni spese alimentari natalizi da parte dell'amministrazione comunale. Sono iscritto al PIS, al pronto intervento sociale che riceveranno nei prossimi giorni telefonata agli assistenti sociali che ringrazio sin da ora perché si sono messi a disposizione ovviamente di noi politici. Quindi sacrificheranno anche un po' le ferie per chiamare tutte queste persone bisognose a cui verrà dato un buono. Noi diamo l'indirizzo politico, poi la struttura valuta in base alle persone e alle famiglie quello che bisogna dare, il numero dei componenti della famiglia, se ci sono bambini, se ci sono diversamente abili e quant'altro. E Pescara anche quest'anno vedrà i politici in prima linea confermare un gesto che è già simbolo del Natale nella città adriatica, la cena solidale per i più bisognosi del 28 dicembre. Una goccia nel mare, certo, l'aiuto alle famiglie pescaresi si è rapportato al nuovo piano sociale 2023-2025 del Comune di Pescara, approvato due settimane fa, con 78 servizi previsti, 15 in più rispetto al precedente, che l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio ha presentato come fedele ai bisogni di integrazione sociosanitaria delle zone periferiche. Nonostante i numeri presentati, circa 15.000 cittadini assistiti per ciascuna annualità, è un investimento totale spalmato nel triennio di ben 18 milioni di euro. Il progetto non è piaciuto al PD pescarese che lamenta la mancanza di una infrastruttura sociale. Di fatto sono diverse le linee di intervento che risultano ancora deficitarie e quello che preme sottolineare è che non si è fatto altro che prendere dei progetti già esistenti, portarli avanti senza metterli però in rete e creare quindi quella situazione forte che possa sostenere tutta quanta la città, ma partendo anche dall'affrontare il degrado urbano, contrasto alla povertà educativa e poi anche gli anziani che di fatto vengono penalizzati da tutte quante le linee che sono state previste.